Abbiamo individuato un'iniziativa che ci porterà, che porterà ERAP a efficientare e ristrutturare gran parte del suo patrimonio del patrimonio pubblico, quindi case popolari per capirci. Qui parliamo di usufruire del bonus del 110%, individuando attraverso 26 lotti diversi in tutta la regione Marche, qualcosa come oltre 5.000 appartamenti di proprietà pubblica per un totale di 349 milioni di euro di interventi. Come vedete quindi sarà una manovra molto molto ampia e complessa che consentirà di avere l'efficientamento energetico su gran parte delle proprietà pubbliche, quindi proprietà ERAP e anche proprietà comunali gestite da ERAP. Consentirà di dare lavoro a decine e decine di imprese in tutta la regione Marche legate a questo tipo di attività e la scelta politica forte che io ho preteso e voluto da ERAP, ho trovato molta condivisione in questo senso, è di suddividere questi tipi di attività in molti lotti funzionali, suddivisi per province. Invece in questo caso con 26 lotti diversi dove una unica impresa può vincere solo uno di questi lotti a livello provinciale, quindi ne può vincere al massimo 5 in tutta la regione, ci saranno molte più attività diffuse, molte più imprese coinvolte e molte più imprese che potranno mettere in campo le loro attività, le loro esperienze e il loro lavoro stesso. Quindi un grande impegno ma soprattutto un grande obiettivo che una volta colto favorirà tantissimo l'uscita da questa crisi, la ripresa economica nella regione Marche.